Vi spiego qualcosa sul progetto Alphabend, che è un progetto che lavora sulla diversità per sviluppare praticamente quello che è stato un'esperienza all'inizio scolastica quando Alfredo si è iscritto alla scuola di Vanillis di Bologna per suonare la batteria. L'evoluzione in praticamente una decina d'anni ormai che ci conosciamo è stata prima di coinvolgere gli altri allievi della classe di batteria e poi di formare un vero e proprio gruppo, prima con alcuni membri, allievi o insegnanti della scuola e finalmente arrivando a una vera e propria vende che è diventata questo quartetto. Il primo pezzo è l'unica cover che facciamo, il resto sono tutte composizioni di Alfredo, soprattutto i test sono suoi, mentre gli arrangiamenti li abbiamo fatti collettivamente. Buon proseguimento. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti